La cantina produttori di Govone ha circa 200 soci, per 350 ettari di terreno vitato, che si estendono tra le Langhe, Roero, Astigiano e Monferrato. Grazie a questa grande estensione e alla programmazione maniacale dei nostri tecnici, siamo in grado, in base all'andamento climatico, di selezionare i vigneti per la produzione di vini di alta qualità. Nonostante la grande realtà che è la produttori di Govone, il metodo di raccolta delle uve rimane manuale, come qualsiasi realtà contadina. Grazie a tutti.